Allora, spero che vediate tutti il mio schermo e mi metto un timer così evitiamo di iniziare subito in ritardo. E innanzitutto grazie a tutti, buongiorno a tutti, vi ringrazio per la pazienza nell'avvio di questo workshop. È un primo workshop sulla modellazione geologica tridimensionale, un workshop organizzato nell'ambito delle attività del tavolo geologia 3D di sottosuolo. Questo workshop vuole essere appunto un primo evento, mi auguro che possa essere un'occasione che si ripeterà nel tempo e nei prossimi anni, nella quale confrontarsi e fornire anche una sorta di formazione per coloro che si approcciano a una modellazione geologica tridimensionale e generalmente alla conoscenza geologica del sottosuolo. La conoscenza geologica del sottosuolo negli ultimi anni e lo sarà ancora più in futuro è diventata senza dubbio una vera e propria frontiera strategica se consideriamo gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile che sono stati promossi dalle Nazioni Unite nel 2015 e che sono di fatto diventati parte integrante delle politiche sociali, economiche e della famosa transizione ecologica di cui si parla anche qui oggi in Ispra. che guideranno le politiche dei paesi internazionali europei e del nostro stesso Stato nei prossimi anni. Il sottosuolo, conoscere il sottosuolo vuol dire fornire un contributo molto rilevante per la gestione, la pianificazione, la corretta progettazione di moltissimi ambiti applicativi che hanno un alto impatto sociale ed economico, la gestione delle aree urbane e delle infrastrutture, le risorse geotermica e idrica ma gli stessi materiali da estrazione, un tema particolarmente rilevante come quello dell'inquinamento connesso ai siti di bonifica e tutte le problematiche connesse allo stoccaggio energetico, lo stoccaggio geologico della CO2 e ovviamente non ultime le pericolosità geologiche. La conoscenza geologica, la conoscenza del sottosuolo sono ovunque nel mondo uno dei compiti istituzionali dei servizi geologici, delle organizzazioni, servizi geologici comunque si collogano all'interno dell'ordinamento delle rispettive nazioni e per questo motivo ormai da circa 20 anni i servizi geologici occupano di modellazione geologica tridimensionale proprio per fornire un contributo di conoscenza geologica del sottosuolo. Da più di un decennio i servizi geologici internazionali organizzano degli eventi di confronto sul tema della modellazione geologica 3D che si svolgono all'interno del congresso della società geologica americana ogni due anni e che producono anche delle raccolte di attività relativamente alle azioni di conoscenza del sottosuolo portate avanti dai servizi geologici, questa ultima del 2019 è scaricabile all'indirizzo che vedete. Analogamente la comunità dei servizi geologici europei si riunisce all'interno di un gruppo informale che è lo European 3D Geological Modeling Community ma in tempi più recenti anche Eurogeo Service che è la struttura che riunisce tutti i servizi geologici europei ha promosso un expert group sul geological mapping e modeling. Ovviamente attività di modellazione geologica vengono svolte anche all'interno di grandi progetti europei come il progetto EPOS sia a livello internazionale che a livello italiano. In tempi più recenti, più precisamente nel 2019, è stato promosso anche a livello nazionale un analogo gruppo di confronto e discussione che è appunto il gruppo che ha promosso questo workshop. Il tavolo Geologia 3D di Sottosuolo è uno degli undici tavoli che sono stati istituiti dal Consiglio Direttivo del Comitato di Coordinamento Stato-Regioni per la Cartografia Geologica e Geotematica che vuole portare avanti un percorso verso la creazione di una rete italiana dei servizi geologici. Quali sono gli obiettivi che ci siamo dati come tavolo all'atto della Costituzione? Innanzitutto la collezione delle attività che sono svolte o che sono state svolte in Italia nell'ambito della modellazione geologica 3D dagli enti partecipanti al tavolo che come vedevate prima sono il Servizio Geologico d'Italia e dieci strutture omologhe, strutture regionali o delle province autonome. Quindi fare lo stato dell'arte per capire da dove partiamo, organizzare un workshop tecnico e questo è appunto il primo della serie e per poter poi arrivare alla produzione di un quaderno tecnico e delle linee guida che definiscano approcci metodologici standard e approcci alla gestione e alla codifica dei dati che siano uniformi. Allo stesso tempo riteniamo come tavolo che sia estremamente importante promuovere delle modalità di utilizzo anche in questo caso omogene per modelli geologici 3D come input nell'ambito di attività autorizzative di controllo e monitoraggio che sono delle attività normalmente portate avanti dagli enti territoriali, così come partecipare a progetti congiunti e diciamo promuovere delle attività divulgative e formative anche presso gli enti regionali, gli enti di controllo e gli ordini professionali. Quindi il primo passo è stato quello di promuovere questa raccolta raccolta dello stato dell'arte e della modellazione geologica 3D in Italia facendo un questionario che raccogliesse le informazioni relativamente ai modelli prodotti dal Servizio Geologico d'Italia e dagli enti partecipanti al tavolo. Siamo partiti quindi dalla nostra esperienza che ormai è un'esperienza piuttosto lunga in questo campo, ci ha portato a realizzare un numero piuttosto elevato di modelli in diversi contesti geologici e di diversa estensione. La sintesi dei dati raccolti a oggi, ricordo che questo è un stato dell'arte in continuo divenire e vedremo alla fine di questa presentazione cosa ci attende per il futuro, ci ha dato la possibilità di raccogliere informazioni su 16 modelli geologici 3D, 8 dei quali realizzati dal Servizio Geologico d'Italia, 6 dalla Regione Emilia-Romagna, 1 da Regione Lombardia e 1 da Arpa-Piemonte. Come vedete da questo grafico che riporta insieme informazioni anche molto differenti, la durata dei progetti che hanno portato alla realizzazione dei modelli è una durata estremamente variabile, ovviamente in funzione anche dell'estensione dell'area modellata. In particolare questa raccolta di informazioni ha cercato di fornire delle informazioni di massima sia sull'estensione profondità massima raggiunta dagli modelli realizzati e come vedete si va da poche decine di chilometri a diverse decine di migliaia di chilometri quadrati come estensione e da poche centinaia di metri a più di 10 chilometri di profondità. Sono state raccolte le informazioni relativamente ai dati di input utilizzati per la realizzazione dei modelli, ovviamente i dati di input sono quasi sempre i dati geologici di superficie, quelli derivanti dalle carte geologiche o da elementi ad esse associati e sezioni geologiche e poi si differenziano in funzione della profondità raggiunta dal modello in sondaggi superficiali e prove geognostiche per i modelli più superficiali, in sondaggi profondi, linee sismiche e dati gravimetrici per quei modelli che vanno a investigare porzioni più profonde del sottosuolo. La nostra raccolta di informazioni include anche la tipologia di oggetti che sono inclusi nel modello, quindi se si tratta solo di superfici o di superfici e volumi. Sono state raccolte informazioni circa i software di modellazione utilizzati o i software che entrano in gioco nel workflow completo di modellazione possono essere anche software non necessariamente specifici per la modellazione tridimensionale quali sono le tipologie di formati dei dati di input così come quali se ci sono delle forme di diffusione dei modelli quindi se sono stati realizzati visualizzatori 3D se sono stati realizzati visualizzatori 2D e se esiste una reportistica associata al modello stesso così come sono fornite informazioni circa i software utilizzati eventualmente per la visualizzazione web 3D. Infine indicazioni circa la possibilità di download dei dati e se sono stati compilati o meno dei metadati relativi al modello. Quello che emerge da questa raccolta di informazioni appunto vi ricordo 16 modelli realizzati dei quali due ancora in fase di completamento pochissimi di questi progetti sono stati portati avanti nell'ambito di attività finanziate con contributi esterni quindi quasi tutti i modelli sono stati realizzati come prodotti sostenuti completamente dall'in-kind delle strutture e questi stessi sei progetti finanziati hanno visto la collaborazione anche di altre strutture, di strutture esterne non necessariamente servizi geologici o strutture omologhe. Quello che emerge di interessante è che quello che è stato realizzato fino ad oggi in termini di modellazione geologica 3D ha avuto come obiettivo principale prevalentemente la conoscenza dell'assetto stratigrafico e strutturale del sottosuolo e soltanto in forma minore seppur ovviamente presente l'applicazione del modello a particolari tematismi in particolare l'idrostratigrafia, l'applicazione alle pericolosità la geotermia e scusate è saltato un pezzo di scritta e le infrastrutture. Così come ritengo sia estremamente interessante vedere che gli utenti che sono stati individuati dalle strutture che hanno prodotto i modelli geologici tridimensionali sono prevalentemente pianificatori, gestori e la protezione civile nonché la comunità scientifica in misura minore si individuano i liberi professionisti come potenziali utenti ma in numero veramente molto basso si ritiene che i modelli geologici di sottosuolo possano essere utili anche ai cittadini questo credo perché ci sia ancora una grande difficoltà di divulgazione delle informazioni relative ai modelli geologici tridimensionali e quindi il problema della visualizzazione e della fruizione di queste informazioni resta comunque un problema aperto e di questo argomento tratteremo anche alla fine di questa giornata cosa ci immaginiamo che ci porterà il futuro credo che sia importante partire da il riavvio del progetto CARG che porterà un impulso importante alle attività di modellazione geologica 3D con i contributi, con i finanziamenti che sono partiti nel 2020 e nel 2021 e stiamo in attesa di attribuire ovviamente quelli del 2022 la produzione di informazioni geologiche di sottosuolo che tipicamente erano realizzate nell'ambito del progetto CARG attraverso i fogli geologici di sottosuolo viene incrementata significativamente in quanto abbiamo ritenuto di voler chiedere ai contraenti anche la possibilità di realizzare modelli geologici 3D dell'area del foglio e come vedete per i fogli finanziati fino ad oggi e considerando anche quanto è stato fatto in passato all'interno del servizio geologico in termini di modellazione raggiungeremo 21 modelli geologici 3D in aree corrispondenti a fogli geologici CARG quindi possiamo dire che l'idea è che nei prossimi anni andremo a incrementare la produzione di modelli 3D multiscala e questo dovrebbe garantirci la possibilità di spingere un po' di più sull'acceleratore rispetto all'utilizzo dei modelli geologici 3D come input per diverse applicazioni e durante questo workshop vedremo alcune delle attività che sono state già svolte in tal senso all'interno delle strutture che presenteranno diciamo ci impegneremo un po' di più per sviluppare strumenti per la diffusione della conoscenza geologica del sottosuolo in particolar modo attraverso la produzione di un visualizzatore e garantendo la possibilità di download delle informazioni e diciamo abbiamo già avviato delle attività relativamente alla definizione degli standard per la gestione e la diffusione delle informazioni in particolare per quel che riguarda i metadati e la creazione di una banca dati di modelli geologici tridimensionali e chiudo questa presentazione introducendo brevemente il programma della giornata lo avete ricevuto tutti diciamo partiamo con una serie di tre presentazioni sulle tecniche di modellazione per introdurre sostanzialmente quali sono gli approcci metodologici che portano alla realizzazione di modelli geologici 3D a partire da diverse tipologie di dati facciamo una piccola pausa e poi continuiamo la giornata con una serie di presentazioni che ci mostreranno come utilizzare i modelli geologici tridimensionali per applicazioni differenti una breve serie di interventi sulle attività in corso di realizzazione da parte di alcune regioni e un ultimo intervento conclusivo che è quello che però ci darà anche un po' uno sguardo verso il futuro relativamente agli standard e metadati e alla diffusione delle informazioni vi ringrazio ora passo la parola interrompo la condivisione del mio schermo passo la parola a Andrea Bistacchi vediamo se grazie Chiara perfetto aspetta che ora sto vedendo qualcosa di sbagliato però ecco così mi vedete meglio direi perfetto sì mi sentite anche? benissimo perfetto ti ringrazio allora 15 minuti perfetto grazie ti do una voce ok ok che sei Andrea? non sentiamo più nulla pensavo che fossi io ad avere dei problemi invece Andrea ci senti? all'audio acceso tra l'altro non ti sentiamo Andrea no no non ti sentiamo e non vediamo neanche lo schermo condiviso non so se lo hai lanciato chiara chiara perdonami vogliamo provare a passare alla persona successiva chiara ecco adesso ti sentiamo sì no ho la condivisione dello schermo bloccata da voi e quando provo a condividerlo a volte si blocca anche il microfono ah Silvia non so tu hai il modo di teoricamente dovresti essere abilitato nel senso che non c'è è host disabled attendee screen sharing Silvia tu puoi fare qualcosa mi dispiace ma la gestione non ce l'ho io ce l'ha certo vediamo questa opzione di condividere prima mi era saltato il video perché stavo cercando eccolo adesso è partito ok forse c'era sì ok sta arrivando ok penso che vediate il mio schermo corretto sì perfetto benissimo grazie ti lascio la parola allora benissimo grazie mille scusate per questa parziale complicazione l'obiettivo è parlare a questo punto di un workflow beh intanto grazie scusate grazie chiara per l'invito eh che è stato rivolto per parlare di un workflow di modellazione da dati di terreno ehm e la la prima domanda eh a questo punto è sempre la stessa in realtà parzialmente affrontata già da chiara in cortenza qual è l'obiettivo di un modello geologico 3D eh noi sappiamo se andiamo eh alle alle basi per esempio ma l'E2002 nel suo libro monumentale sulla modellazione 3D eh sappiamo che la modellazione 3D consiste di tutto l'insieme di metodi matematici che permettono di modellare in modo unificato la topologia, la geometria, le proprietà fisiche degli oggetti geologici eh nel sottosuolo e non solo tenendo in considerazione ogni tipo di dato eh questa abbiamo è l'immagine che abbiamo in mente un po' un po' tutti quindi ehm un l'immagine di un ressarquare di idrocarburi dove abbiamo dati di sismi capozzi eccetera oggi parleremo di qualcosa di un po' più complicato per certi versi aleatori ma forse non del tutto che consiste nel eh modellare partendo da dati geologici di superficie una carta geologica tipicamente e in questo caso ovviamente la terza dimensione eh deriva dal fatto di avere a disposizione una carta geologica eh cartografata su una topografia complessa più abbiamo differenza di eh quota tra le quote più bassi i punti più bassi della carta e le cima delle montagne e più possiamo vedere in 3D e questa è un'esperienza che facciamo da geologi fino al primo anno di università si tratta solo di tradurre questa cosa comune in un modello 3D sviluppato con qualche software eh questo tradurre questa queste osservazioni comuni in un modello geologico 3D in realtà costa molta fatica molto tempo risorse economiche sia nel software sia nel tempo delle persone e quindi poi la domanda immediata è qual è la motivazione perché mi accollo questo lavoro eh aggiuntivo perché costruisco il modello 3D invece di accontentarmi di una tradizionale geologia 2D e e quindi dobbiamo avere chiari quali sono i gli obiettivi del modello in realtà eh come viene raccontato molto bene in questa review del 2018 il modello 3D il tipo di modello 3D che verrà costruito dipende molto spesso anche dagli obiettivi che ci prefiggiamo quindi dobbiamo averli chiari fino all'inizio gli obiettivi applicativi che che Chiara ha già elencato io li riassumo molto velocemente sono tipicamente la geologia degli idrocarburi dove in sostanza è nata la modellazione geologica 3D eh le georisorse in genere anche minerali eccetera tra idrogeologia geotermia sismo tettonica e rischi di vario genere eh sempre di più eh la modellazione 3D sta entrando per fortuna nel campo dell'ingegneria delle infrastrutture nel sottosuolo e poi ovviamente abbiamo tutti quei progetti che stanno in qualche modo riciclando quello che già si sapeva sui reservoir di idrocarburi quindi progetti di carbon capture and storage power to gas quindi stoccaggio di idrogeno nel sottosuolo e via dicendo ma eh oltre ai progetti applicativi mi fermavo a riflettere soprattutto in questa in questa sede in questa riunione sul fatto che esiste un obiettivo comune fondamentale per un modello geologico 3D cioè ricostruire e validare l'architettura l'evoluzione geologica stratigrafica strutturale tettonica tutto quello che volete eh in un ambito che aggiunge una dimensione la terza dimensione o eventualmente anche una quarta dimensione il tempo eh andando a evidenziare tutta una serie di problemi interpretativi che il geologo l'interprete esperto nel nostro caso deve risolvere deve affrontare in questo ambiente 3D e deve risolvere andando a validare il modello geologico dipendentemente dal fatto che il modello sia 2D o 3D quindi questo obiettivo che possiamo vedere comune un po' a tutti i campi di applicazione riguarda proprio il fatto di eh avere un ambiente interattivo 3D dove tutta una serie di problemi interpretativi sono evidenziati possono essere affrontati proprio perché li abbiamo evidenziati e in questo essenzialmente risiede la maggiore fatica dell'interpretazione 3D e alla fine ovviamente il risultato sarà migliore sarà avrà superato una validazione più consistente bene come possiamo ho provato a schematizzare un workflow che ovviamente in realtà è più complicato è più interattivo ma ho provato a schematizzarlo nei suoi elementi fondamentali noi abbiamo dati nel nostro caso osservazioni di terreno poi in altre situazioni abbiamo anche veri dati di sottosuolo e abbiamo dei modelli teorici la nostra esperienza di geologi quello che leggiamo in letteratura le chiavi che utilizziamo per interpretare i dati di terreno tramite un procedimento essenzialmente induttivo arriviamo a formulare un modello concettuale che ci racconta qualcosa dell'evoluzione geologica di una regione e che si concretizza nell'aver definito una successione stratigrafica quali sono le unità tettono-metamorfiche da quali caratteristiche e quali caratteristiche hanno le strutture principali la loro cinematica la cronologia relativa assoluta di questi oggetti l'uno rispetto all'altro e così via quando abbiamo costruito questo modello concettuale possiamo attraverso un procedimento che a questo punto diventa un processo più lineare più semplice se vogliamo perché diventa un processo di tipo deduttivo passare a modellare interpolare e questo è il vero ambito della modellazione 3D 4D quindi in realtà se vogliamo la modellazione 3D che sembra una cosa complessa potrebbe quasi essere dal punto di vista concettuale l'aspetto più semplice in tutto il processo mentre invece l'ambito dove davvero serve l'esperienza e la competenza del geologo è il primo costruire il modello concettuale poi però c'è il valore aggiunto del modello geologico 3D che è la fase di verifica validazione cioè possiamo prendere il modello 3D osservare il suo output e sottoporlo a un processo di verifica e validazione rispetto al modello concettuale rispetto ai dati di riservazione terreno rispetto ai modelli teorici a tutte le sue premesse e da questo processo interattivo di validazione nasce la complicazione nasce la necessità di affrontare un sacco di problemi che si presentano in pratica in questo tipo di interpretazione e che si moltiplicano aggiungendo la terza dimensione o addirittura la dimensione tempo ma d'altra parte migliorano moltissimo la qualità del processo di verifica e di verificazione e quindi alla fine migliorano moltissimo sia la restituzione quantitativa del modello geologico 3D 4D sia la validazione del modello concettuale che sta a monte di tutto questo processo vediamo quindi quali sono gli elementi fondamentali di questo processo a monte dato che dobbiamo costruire un modello concettuale c'è sempre la leggenda partiamo da una carta geologica e quindi la dobbiamo leggere in funzione di una leggenda qui vi presento l'esempio che abbiamo messo a punto la metodologia che abbiamo messo a punto per un progetto Interreg che al momento è attivo in Valle d'Aosta in collaborazione col cantone Vallese quindi un progetto trasfrontaliero che riguarda tutta la dorsale delle Alpi che corre lungo il confine Italia tra la Valle d'Aosta e il cantone Vallese in Svizzera quindi stiamo considerando una dorsale che le cime arrivano a quote di 4.500 4.600 metri il fondo valle si trova a 3.400 metri decisamente una topografia tridimensionale e questo ci aiuta molto la geologia per contro è molto complicata stiamo parlando del nucleo metamorfico delle Alpi abbiamo unità australpine penniliche un pochino delvetico e quindi abbiamo dovuto costruire una leggenda amatriosca mi viene da dire dove andiamo a suddividere in primo luogo i grandi domini tettonici che comprendono il margine africano australpino il dominio pennilico e quindi delvetico sul margine europeo e ovviamente poi scendiamo nel dettaglio delle delle falde delle unità tettonometamorfiche integreremo e questo lo vedo non c'è moltissimo tempo per discuterlo ma integreremo perché pensiamo che sia di interesse per le finite dal progetto dei complessi litologici omogenei che vuol dire per esempio distinguere i litotipi carbonatici dagli scisti senza andare di tanto nel dettaglio eccetera e poi arriveremo fino al livello invece dell'unità litologica cartografata nelle carte carga 10.000 che presentano un livello di dettaglio molto elevato ma a volte eccessivo per la modellazione 3D tutto questo scusate ok scusate tutto questo è tradotto nel database in ambiente GIS che supporta il progetto con delle leggende multilivello che è facile costruire in ambiente GIS per cui abbiamo vari codici che corrispondono a questi diversi livelli di suddivisione delle unità strutturali delle unità strutturali tettoniche e litologiche ma in realtà diventa più difficile da integrare in un ambito di modellazione 3D dove non è possibile costruire una leggenda in modo così complicato allora siamo arrivati per questo che è il nostro progetto a definire una leggenda costruita appunto come dicevo a Matrioska semplicemente concatenando i codici che troviamo nel GIS in questo modo possiamo spacchettare la leggenda a ritroso e ritornare e fare avanti indietro diciamo nella leggenda composita che abbiamo in GIS anche all'interno del modellatore geologico per questo progetto ci fermeremo a queste cosiddette litologie omogenee quindi rocce carbonatiche scisti gnais senza andare nel dettaglio rilevato a livello carga dell'orto gnais più o meno deformato più o meno fogliato eccetera questo perché in questo particolare progetto l'obiettivo è di tipo idrogeologico in particolare di idrogeologia profonda nel basamento e nelle coperture e quindi siamo arrivati a concludere che l'elemento fondamentale è per esempio distinguere le rocce carbonatiche dove può essere il carcismo da quelle di basamento dove la permeabilità sarà essenzialmente per fortuna di risorse detto questo passiamo a affrontare l'analisi preliminare dei dati e quello che facciamo normalmente per iniziare a costruire il modello concettuale sviluppare il modello concettuale analizzare i dati è costruire un modello semi tradizionale di questo tipo lo chiamiamo modello concettuale esplorativo 2D e mezzo in sostanza significa esplorare la carta geologica in 3D costruire un grande numero di sezioni di profili geologici seriati fare analisi di orientazione che ovviamente ci serve per orientare completamente i profili geologici dare continuità alle strutture le strutture questo non è l'esempio valdostano ovviamente questo è un esempio di una carta geologica del Galles che però racchiude tutta una serie di problemi e quindi lo uso spesso anche per fare lezioni e a questo livello possiamo fare tante cose per esempio possiamo interpretare strutture su un flun planari come faglia normale ad altro angolo eccetera appoggiandoci sul dem possiamo andare a studiare le intersezioni la cinematica la cronologia redattiva delle diverse strutture che poi dovrà in qualche modo essere implementata nel modello e tradotta nel modello 3D vero e proprio una cosa fondamentale in questa fase dell'analisi è iniziare ad escludere tutte le soluzioni impossibili quelle che sono chiaramente in contrasto con i dati e che vanno escluse dopodiché rimarranno una serie di alternative da valutare nelle fasi successive della modellazione dal punto di ecco messo sempre delle note sul software usato dal punto di vista del software al momento per questa fase di analisi tendiamo a usare essenzialmente Move che è molto user friendly che tra l'altro permette di fare questo tipo di analisi anche diciamo utenti meno esperti scusa due minuti scusa due minuti grazie sì benissimo i passi successivi invece riguardano la modellazione 3D vera e propria e qui passiamo e qui la cosa si complica il modo tradizionale è la cosiddetta boundary representation dove le unità sono rappresentate dai loro boundary dai loro limiti che delimitano delle scatole chiuse dentro le cui abbiamo le varie unità questo è un approccio estremamente oneroso quando i modelli sono complicati perché dobbiamo costruire delle superfici usando degli algoritmi di tessellazione e poi modellarle usando diversi algoritmi di interpellazione finora l'unico software che abbiamo testato in modo efficace per costruire un modello cosiddetto watertight in cui queste scatole siano tenute a stagna e possono essere usate per applicazioni successive scua locando l'approccio che però ci sembra essere estremamente potente e più moderno è quello a superficie implicita l'idea è che possa essere definito un campo stratigrafico S0 definito come un campo scalare di potenziale dove i limiti geologici definiscono un livello dentro questo campo scalare le giaciture definiscono un gradiente di questo campo scalare e si possono usare diversi tipi di interpolatori per costruire in modo semiautomatico tutto il campo stratigrafico quindi tutto il modello geologico 3D in un colpo solo sembra quasi magico soddisfando tutta una serie di diverse regole e leggi strutturali che per esempio riguardano le relazioni tra il gradiente e le strutture quando abbiamo faglie esistono modi per introdurre in alcuni interpolatori discontinuità nel campo stratigrafico tipo questo e quando abbiamo strutture un po' più complesse per esempio pieghe possiamo considerare dei vincoli che tendono a applicare un controllo che diciamo si basa proprio sulla natura stessa di queste strutture per esempio un asse di pieghe esistono diversi software che implementano questo metodo e penso di lasciarvi queste slide poi se volete lo passo un po' velocemente diciamo che i più comuni sono commercialmente sono l'Hipfrog che però non implementa in modo così esteso le faglie provocano una serie di problemi geomodeler basato sul cringing in teoria molto bello in pratica dei problemi numerici gempy che è una libreria open source che sta crescendo molto che implementa lo stesso concetto e quello che alla fine permette di costruire modelli più completi è sempre gocad con una libreria struttural lab che permette di introdurre tutti i diversi controlli strutturali in una mesh tetraedri estremamente densa estremamente efficace che ha il grosso vantaggio di poter poi essere esportata verso applicazioni di diverso tipo per esempio verso applicazioni tipo elementi finiti benissimo se mi rimane mezzo minuto ti chiedo di avviarti alla chiusura grazie benissimo allora dico due cose solo e cioè che l'ulteriore applicazione degli algoritmi di gocad lo troviamo in scuva dove addirittura viene creato un parallelo tra il campo lo spazio geologico deformato nello stato attuale e uno spazio geocronologico originale dove in sostanza viene operata una sorta di retrodeformazione virtuale che riporta ogni unità nella sua posizione strutturale originale dove il campo potenziale viene retrodeformato e questo fornisce un ottimo supporto per applicazioni poi di geostatistica di costruzione di facces e cose di questo genere tutte queste cose la cosa interessante è che si possono fare scusatemi tutte queste cose la cosa interessante è che si possono fare a partire da dati di terreno questa era la carta geologica che vedevamo prima e questo è un modello volumetrico costruito a partire da dati di superficie con delle strutture anche piuttosto complesse pieghe con spatole debate faglie che tagliano in modo discontinuo la mesh e comprende tutta una serie di complicazioni che poi se volete possiamo discutere magari con le domande tipo faglie che tagliano in modo discontinuo la mesh che è una delle cose più complesse da creare niente quindi vi ringrazio e lascio spazio al prossimo grazie grazie Andrea grazie perché diciamo hai introdotto tutta una serie di concetti che sono poi alla base della modellazione che quindi troveremo sicuramente anche nelle prossime presentazioni diciamo chiedo alle persone che partecipano al workshop se cominciate ad avere curiosità domande di appunto appuntarle in chat in modo che le abbiamo pronte nel momento in cui lasciamo lo spazio aperto alla discussione e cedo la parola ad Alberto Martini di Regione Emilia Romagna scusate non ho presentato prima bene Andrea Bistacchi che è di Università Milano Bicocca e grazie ancora Andrea per aver diciamo messo a disposizione la sua esperienza sulla modellazione a partire da dati di terreno cedo la parola ad Alberto e ti chiederei di stare nei tempi e invito tutti quanti a raccogliere domande e questioni nel corso delle presentazioni grazie Alberto puoi condividere condivido mi dite se vedete si vediamo lo schermo ok dunque sono Alberto Martini del servizio geologico sismico dei suoli della regione Emilia Romagna io mi occupo principalmente delle banche banche dati cartografiche che compongono il sistema informativo territoriale della regione Emilia Romagna e anche degli applicativi web cartografici che disponiamo attraverso le pagine del nostro sito oggi vi vorrei illustrare la procedura che utilizziamo in regione Emilia Romagna per realizzare dei modelli 3D che rappresentano la distribuzione nel sottosuolo dei principali corpi grossolani sulla base delle informazioni litologiche presenti o derivate dalle prove geognostiche il progetto di costruzione di una banca dati delle prove geognostiche in Emilia Romagna nasce nel 92 con l'obiettivo prioritario di disporre di informazioni geologiche di sottosuolo ai fini della pubblicazione dei primi fogli di pianura del progetto CARG questa banca dati viene costantemente aggiornata sia recuperando prove realizzate a supporto di indagini conoscitive di varia natura presenti in archivi di proprietà sia pubblica che privata sia acquisendo nuove prove geognostiche effettuate in seguito dalle principali opere infrastrutturali sul territorio regionale inoltre il nostro servizio esegue direttamente sondaggi prove penetrometriche e altre tipologie di prove finalizzate soprattutto alla realizzazione di prodotti cartografici ma anche altri prodotti progetti relativi al sottosuolo della regione attualmente la banca dati delle prove geognostiche come vedete qua contiene circa 95.000 prove la maggior parte ricadono nel territorio di pianura non tutte le prove geognostiche contengono informazioni dirette sulla natura litologica del terreno attraversato o indagato o permettono di derivare queste informazioni dai loro dati di output qui vediamo per esempio colorate in rosso le prove che contengono la descrizione della stratigrafia del terreno attraversato osservato principalmente si tratta di sondaggi e pozzi per acqua in verde sono segnate invece le prove penetrometriche che contengono la registrazione durante l'esecuzione della prova dai parametri geotecnici questi parametri permettono successivamente di interpretare la litologia attraverso appositi diagrammi e formule come vedremo globalmente poco meno della metà delle prove geognostiche presenti in banca dati che hanno le caratteristiche per poter essere utilizzate per creare un modello litologico del sottosuolo qui illustrata in maniera schematica e sintetica la struttura dati delle tabelle principali che costituiscono la banca dati delle prove geognostiche e le relazioni tra le varie tabelle rapidamente vediamo la tabella centrale GEC generale contiene le informazioni che possiamo definire l'anagrafica della prova la sigla il comune in cui ricade il riquadro geografico la data di esecuzione il tipo di prova la profondità raggiunta eccetera le tabelle a destra stratigrafia e litologia a cui sono collegate attraverso dei campi chiave contengono le informazioni che caratterizzano litologicamente i diversi strati in cui viene distinto il terreno attraversato ed altri parametri come vediamo qua in basso fisici o geotecnici che caratterizzano l'intera porzione di sottosuolo indagato dalla prova per esempio la profondità della falda o alcuni parametri geofisici nel caso di prove sismiche le tabelle a sinistra contengono invece le informazioni derivanti da analisi geotecniche effettuati su campioni raccolti durante l'esecuzione della prova o durante prove in situ qui in basso la tabella GEC CPT contiene i valori dei parametri geotecnici registrati durante l'effettuazione delle prove penetrometriche statiche classici parametri delle CPT questo schema illustra le procedure che permettono di convertire la struttura dati appena vista nella struttura di una banca dati progettata appositamente per essere utilizzata dal software di modellazione geologica tridimensionale che usiamo al servizio geologico simbico dei suori ogni volta che la banca dati delle prove diagnostiche viene aggiornata con nuovi dati una serie di script SQL in automatico provvedono a processarli a trasformarli in una serie di nuovi dati e a farli confluire nelle tabelle che definiscono la struttura della banca dati 3D e che costituiscono i dati di input del software LeapFrogGeo un software di modellazione geologica 3D sviluppato dalla società neozelandese Sequent di cui abbiamo delle licenze la tabella GEC 3D ubicazioni contiene le informazioni relative all'ubicazione della prova nello spazio e alla profanità raggiunta La tabella GEC 3D stratigrafie contiene le informazioni relative alla caratterizzazione litologica degli strati del terreno attraversato dalla prova Le tabelle sulla destra invece contengono le informazioni derivanti dalla tabella che abbiamo visto prima dell'ICPT interpretate sulla base delle formule e diagrammi proposti da Robertson nel 1986 nella versione modificata nel 2010 Qui la tabella una tabella riporta le singole letture dei parametri strumentali con il passo impostato durante la prova ci sono delle prove che hanno un passo di un centimetro altre di 20 centimetri Alcuni contengono anche alcuni valori geotecnici che sono derivati e calcolati attraverso le forme e i diagrammi di Robertson e che saranno utili per la caratterizzazione litologica del terreno quale l'indice SBT e il valore SBT la tabella Robertson-Lito partendo dai valori di SBT della tabella precedente crea un dissolve tra gli intervalli contigui della prova aventi lo stesso valore di SBT creando di fatto una stratigrafia del terreno attraversato dalla prova con strati a litologia omogenea in tutte le tabelle le litologie vengono rappresentate oltre che da una sigla caratteristica del litotipo anche da un valore numerico che esprime la granulometria del sedimento con un valore crescente dai termini più fini verso quelli più grossolani il software LipFroggeo prende in carico le varie tabelle e a quel punto è in grado di rappresentare la stratigrafia delle singole prove sotto forma di volumi cilindrici che vediamo qui nella depositiva di differente altezza e colore sulla base dello spessore e del contenuto litologico dei singoli strati adesso vediamo se parte con la con la rete un po' giù per apprezzare un modello geologico bisogna vederlo in movimento altrimenti si rischia di non capire bene quello che stiamo vedendo il primo passo per rappresentare in 3D la distribuzione dei corpi alluminali grossolani nel sottosuolo è definire un modello geologico di riferimento che individui la successione delle diverse unità di tostrati grafiche presenti nel settore di studi diciamo che il nostro servizio dopo anni di studi del sottosuolo della pianura padana e di elaborazioni utilizzate per la pubblicazione della cartografia geologica in pianura ci ha permesso di ricostruire gli andamenti nel sottosuolo delle superfici che rappresentano le basi stratigrafiche delle principali unità deposizionali della pianura padana in questo esempio vediamo a partire dalla superficie topografica in verde la superficie che rappresenta la base dell'unità AS8 quella che nelle carte chiamiamo sub-sintema di Ravenna in azzurro quella che rappresenta la base dell'unità AS7 sub-sintema di Villa Verucchio il modello geologico che ci aggiungiamo a realizzare sarà estremamente semplice ma costituirà la base del successivo modello di interpretazione vitologica del sottosuolo il software praticamente mi propone una serie di finestre che mi permetterà di impostare i dati utili per la costruzione del modello 3D in questa prima maschera impostiamo la risoluzione del mio modello quindi praticamente il volume minimo in questo caso di 40 metri per 40 metri che rappresenterà il mio terreno definisco quindi il volume entro il quale creo il mio modello e i limiti spaziali del modello qui vediamo per esempio che è stato impostato come limite superiore la superficie topografica e come estensione laterale del mio modello l'estensione del territorio del comune di Castelguelfo in questo caso definisco quindi la successione stratigrafica delle unità che saranno rappresentate nel mio modello e i rapporti reciproci di sovrapposizione stratigrafica qui tra l'altro è sbagliato perché l'S7 sta sotto l'S8 e poi al di sotto dell'S7 abbiamo l'unità diciamo il resto della successione quaternaria non distinta per ciascuna unità stratigrafica definisco quale sia la superficie che ne costituisce la base e l'unità su cui si sovrappone in questo caso stiamo definendo la base dell'unità S8 dove la prima litologia S8 mi dice che più giovane è dell'elitologia S7 e che il contatto tra queste due unità è un contatto di tipo erosionale infine ordino in senso stratigrafico la successione delle superfici che ho creato al passo precedente quindi la base S8 e la base S7 nel loro ordine di sovrapposizione questo è il risultato un modello estremamente semplice in verde è rappresentata l'unità S8 in azzurro l'unità S7 e in rosso il resto è la successione alluvionale poternaria vediamo qui l'alberatura praticamente degli elementi che sono stati creati dall'applicazione che definiscono il mio modello geologico a questo punto possiamo far entrare in gioco nella modellazione 3D le informazioni litologiche presenti nella banca dati delle prove geognostiche le litologie rappresentate con i vari colori si ripetono senza un apparente ordine stratigrafico all'interno delle singole prove geognostiche una continua ripetizione degli stessi litotipi anche la densità di livelli intercalati all'interno di una prova è estremamente variabile soprattutto indipendenza del tipo di prova come vediamo un pozzo per acqua per esempio registra solamente le porzioni permeabili rispetto a quelle impermeabili un pozzo un carotaggio continuo invece ha una stratigrafia molto meglio definita una prova CPT addirittura può avere una stratigrafia quasi centimetrica non potrò quindi procedere come nel caso del modello geologico appena realizzato definendo una successione stratigrafica basata sulle ripetizioni delle stesse litologie all'interno della stessa unità deposizionale e non ho nemmeno le superfici che definiscono le basi dei vari corpi all'itologia omogenea il software però mi dà la possibilità di sfruttare le sue capacità di calcolo per proporre una interpretazione della distribuzione nello spazio delle litologie presenti nella banca dati sulla base di una interpolazione delle litologie attraverso delle metodologie di analisi analisi statistica abbastanza avanzata anche qua attraverso una successione di maschere posso impostare i miei parametri in questo caso io imposto il campo numerico da utilizzare per l'interpolazione che è la litologia espressa come valore numerico il numero della litologia presente nella banca dati definisco lo spessore minimo dello strato litologico che dovrà essere generato dal modello sotto il quale l'informazione litologica verrà ignorata definisco in questa maschera l'interno di quali volumi del mio modello geologico precedentemente realizzato dovrà essere lanciata la procedura di interpolazione delle litologie in questo caso ho definito che mi deve interpolare le litologie all'interno dell'unità AS8 e all'interno dell'unità AS7 per lasciando le altre unità più che altro perché sono molto povere di dati questo mi permette di impostare separatamente all'interno di ogni singola unità geologica differenti parametri dell'interpolante Alberto due minuti il software mi dà inoltre la possibilità di definire il trend strutturale che guiderà la modellazione dei miei corpi litologici in questo esempio i corpi litologici dell'unità AS7 quella compresa questa superficie vera e quella blu verranno modellati nella loro forma tenendo in considerazione la forma e l'orientazione delle due superfici di base di tetto e la direzione verso del trasporto del materiale sedimentario questi valori vengono rappresentati da un piano con orientazione definita da eventuali dati in mio possesso sul verso delle correnti o semplicemente dalla sensibilità dell'operatore ad esempio sulla base dell'osservazione dell'andamento del reticolo idrografico superficiale qui vediamo come esempio la maschera di creazione del trend strutturale per l'unità AS7 dove sono impostate le due superfici stratigrafiche che guideranno la modellazione dei corpi geologici la base di AS8 e la base di AS7 qui vediamo i parametri che rappresentano l'orientazione del piano che definisce direzione verso del trasporto del materiale e i parametri che rappresentano l'anisotropia della distribuzione del latro verticale diciamo prediligendo il collegamento tra livelli presenti lungo la direzione della corrente piuttosto che tra livelli più vicini ma laterali rispetto alla stessa direzione oppure evitando di collegare tra loro livelli che stanno a quote troppo differenti è possibile scegliere il metodo di interpolazione ed agire su altri parametri dell'interpolatore infine imposto gli outputs che verranno mostrati nel modello in questo esempio ho definito che il mio modello deve mostrare con colori differenti i corpi con granulometria superiore ai limi sabbiosi quel 6,5 rispetto a quelli a granulometria inferiore il risultato è questo in questo esempio vengono mostrati solo i corpi grossolani appartenenti alle due unità statigrafiche S8 in giallo e S7 in marrone qui vediamo l'alberatura degli elementi che sono stati creati dall'applicazione e che definiscono separatamente per le due unità S7 e S8 il modello interpretativo della distribuzione dei corpi grossolani e sì la rete è un po' giù e questo qua diciamo è il risultato finale con la possibilità di mostrarlo diciamo nel suo interesse e apprezzando anche la tridimensionalità direi che con questo ho finito grazie a tutti grazie mille a te Alberto molto interessante come abbiamo visto ci sono degli step del workflow di modellazione che si ripetono l'approccio che ha fatto vedere Andrea e quello che ha fatto vedere Alberto e ora vedremo anche nella mia presentazione ci sono degli elementi comuni e poi inevitabilmente ci sono degli aspetti che differenziano l'approccio metodologico in funzione del dato che stiamo utilizzando e invito chi ascolta a continuare a scrivere domande così abbiamo già parecchia carne al fuoco per la discussione al termine di questo blocco torno a condividere io lo schermo scusate vediamo la presentazione giusta eccoci e quindi ho diciamo il compito di chiudere questa serie di presentazioni sulle tecniche di modellazione a partire da dati differenti raccontando un po' come approcciamo la modellazione nel caso in cui abbiamo tipologie di dati che pescano dall'approccio che faceva vedere prima Andrea Bistacchi e da quello che ha mostrato Alberto aggiungendo diciamo ulteriori tipologie di dati è chiaro che modellare la geologia in Italia essendo la nostra geologia estremamente complessa ci dà la possibilità come faceva vedere Andrea di avere esposizioni anche molto significative molto belle che ci consentono di ottenere dei vincoli geometrici utili ai fini della modellazione tuttavia abbiamo anche aree un po' come quelle che faceva vedere Alberto ma non necessariamente di piena pianura dove gli affioramenti sono obiettivamente ridotti per non dire ridottissimi e questo ovviamente ci diciamo preclude la possibilità di vedere direttamente la complessità geologica del sottosuolo in questi casi quelli che definiamo affioramenti si concretizzano nella disponibilità di informazioni relative al sottosuolo che possono essere diciamo i dati geognostici che faceva vedere prima Alberto ma in molti casi sono anche dati di relativi a pozzi profondi quelli per l'esplorazione petrolifera e linee sismiche forse contrariamente a quello che immaginiamo questi dati sono estremamente abbondanti sul territorio nazionale anche se non sempre facilmente reperibili per problemi di riservatezza ma come vedete sulla mappa di sinistra effettivamente sono tanti diciamo non omogeneamente distribuiti sicuramente la pianura padana è una di quelle aree in cui questi dati sono più densamente distribuiti e noi abbiamo avuto la possibilità nell'ambito di diversi progetti europei di avere la fortuna di lavorare in pianura padana e quindi di poter sviluppare un workflow molto articolato e complesso per l'integrazione di dati di questa natura quello che vedete è il workflow che abbiamo sviluppato nel corso del progetto europeo GOMOL che è stato obiettivamente una palestra importantissima per l'integrazione di questi dati è un workflow complesso che trae origine dalle metodologie che mostravano prima Andrea e Alberto ma che ha in più la complicazione di dover integrare dati che sono nel dominio delle profondità sia dati di affioramento che dati relativi a sondaggi ma che include anche dati che invece sono nel dominio dei tempi e quindi abbiamo bisogno di approcciare la modellazione svolgendo una prima fase di interpretazione e armonizzazione di questi dati utilizzando uno schema di riferimento svolgere una fase di modellazione che avviene nei due domini separati quindi nel dominio delle profondità e nel dominio dei tempi e di sviluppare un'attività di conversione da tempi a profondità che ci consente di integrare le norme molle di dati che arriva dal dominio dei tempi questa fase qui è una fase estremamente critica del workflow di modellazione ed è quella su cui spenderò qualche parola in più dopodiché arriviamo a una fase di verifica e integrazione del nostro modello in profondità con dati indipendenti l'eventuale raffinamento del modello fino a ottenere un modello finale per le successive applicazioni su questa slide perderò poco tempo perché diciamo ne hanno ampiamente parlato sia Andrea che Alberto è chiaro che facciamo modellazione geologica abbiamo quindi bisogno di partire da uno schema di riferimento al nostro modello concettuale che deve tenere conto sulla base delle conoscenze geologiche che abbiamo dei rapporti tra le unità che deve tenere conto dell'età delle unità e degli eventi che governano diciamo l'evoluzione geologica dell'area che andiamo a investigare ma lo schema che andiamo a definire deve anche tenere conto delle finalità specifiche per le quali stiamo realizzando il nostro modello geologico che non è soltanto un modello descrittivo dell'evoluzione geologica ma in molti casi come vedremo nel blocco successivo di presentazioni ha delle applicazioni quindi sapere se il nostro target sono le risorse piuttosto che la definizione dell'evoluzione geologico strutturale di un'area piuttosto che investigare la tettonica attiva di un settore ci porta a definire uno schema di riferimento che deve porre particolare attenzione a alcuni aspetti piuttosto che altri è ovvio che l'idea ottimale sarebbe tenere conto di tutti questi aspetti al fine di ottenere un modello geologico 3D completo ma non sempre possibile per questioni di tempo e di disponibilità di dati come è stato detto nelle presentazioni precedenti lo schema di riferimento è la chiave con la quale guidiamo la nostra interpretazione dei dati siano essi nel dominio delle profondità nel caso più specifico dati di sondaggio attraverso una metodologia molto simile a quella che ha descritto Alberto diciamo le informazioni vengono acquisite e codificate in accordo con lo schema di riferimento questi dati possono derivare da banche dati preesistenti sondaggi a livello nazionale o regionale ma possono essere acquisite anche nell'ambito di progetti specifici con dati soggetti a riservatezza è particolarmente importante ne parlava già Alberto prima tenere conto che non ci è sufficiente acquisire le informazioni della descrizione litologica granulometrica le caratteristiche granulometriche dei nostri depositi piuttosto che l'età o il nome della formazione ma abbiamo bisogno per questo workflow specifico che ci siano a disposizione anche informazioni relative ai dati di velocità alle temperature se vogliamo fare applicazioni di tipo geotermico piuttosto che la porosità la permeabilità dove sono disponibili queste informazioni è estremamente strategico acquisirle e codificarle nel nostro archivio di informazioni analogamente lo schema di riferimento viene utilizzato per l'interpretazione dei dati nel dominio dei tempi tipicamente le linee sismiche chiaramente nel momento in cui andiamo a definire lo schema di riferimento dobbiamo avere anche abbastanza chiaro quali sono le fasce sismiche più facilmente riconoscibili che ci consentono di avere una diciamo chiave di lettura omogenea è inutile andare a definire un orizzonte che poi sappiamo non essere in grado di essere riconosciuto nella nostra sismica i dati che vengono interpretati sulle linee sismiche sono i punti del nostro picking in aree vaste come quelle che vedevamo precedentemente sono nell'ordine del milione di punti quindi abbiamo diciamo un'enorme quantità di dati che vanno trattati per essere convertiti in profondità per poter essere successivamente integrati con gli altri dati ecco quindi che il passaggio della conversione da tempi a profondità diventa un passaggio estremamente rilevante estremamente importante per poter fare la conversione abbiamo ovviamente bisogno di sviluppare un modello di velocità che può essere da molto semplice a molto complesso e la definizione del modello di velocità è funzione dell'assetto geologico che dobbiamo andare a descrivere attraverso il modello che stiamo realizzando e quindi la nostra conversione deve essere in grado di rispondere a quella complessità o semplicità geologica all'estensione dell'area da modellare è molto diverso se dobbiamo sviluppare un modello di velocità di un'area di pochi chilometri quadrati piuttosto che di decine di migliaia di chilometri quadrati e delle finalità del modello esistono diversi tipi di velocità che possiamo utilizzare nella descrizione del nostro modello di velocità nel caso più semplice potremmo optare per una velocità media per l'intera pila sedimentaria o per l'intera successione che dobbiamo convertire l'approccio più semplice ma anche quello che dà risultati sicuramente meno attendibili soprattutto se ragioniamo su aree vaste un approccio al modello di velocità utilizzando le velocità intervallarie e quindi suddividendo discretizzando sostanzialmente la nostra successione in unità di rango gerarchico inferiore in funzione delle loro caratteristiche di velocità e adottando però un unico valore di velocità per queste porzioni discrete di successione oppure adottando un modello a velocità istantanee utilizzando quindi delle velocità che sono in grado di descrivere la variazione del parametro con la profondità anche in questo caso abbiamo bisogno di discretizzare la nostra successione e applicare delle velocità istantanee istantanee è importante ricordare che i parametri di velocità non variano soltanto sulla verticale quindi lungo l'asse delle z ma subiscono delle variazioni in funzione delle caratteristiche dei corpi e della loro organizzazione stratigrafico strutturale anche arealmente anzi le variazioni areali sono quelle che incidono di più nella costruzione del modello di velocità soprattutto se si ragiona su area vasta come vedete nelle mappe sulla destra della slide le variazioni dei parametri di velocità sono molto significative qui abbiamo un layer cake a quattro strati e sono molto significative varia sia il parametro b0 che il parametro k quindi il gradiente con cui la velocità varia lungo la verticale queste variazioni dei parametri sono fortemente controllate anche dalle barriere strutturali presenti nell'area che stiamo modellando cosa si fa quindi per la costruzione del modello di velocità si parte dallo schema di riferimento si capisce come vogliamo discretizzare la nostra successione non c'è una perfetta corrispondenza di unità nello schema di riferimento e nel layer cake del modello di velocità utilizzeremo i nostri dati che derivano dal database dei sondaggi dove abbiamo le profondità cui avvengono i passaggi litologici utilizzeremo dati di velocità che possono venire dalla letteratura nel caso più semplice ma probabilmente dovremmo approcciare un modello di velocità a velocità medie piuttosto che dalle stacking velocity acquisite lungo le linee sismiche se disponibili o da tabelle time depth quindi tabelle relative all'acquisizione lungo la verticale dei pozzi dei valori di velocità ovviamente diciamo il lavoro di elaborazione dei dati di velocità soprattutto su aree vaste con molti dati è un lavoro lungo ma è quello che garantisce la miglior conversione del modello in profondità per ottimizzare questo percorso di creazione del modello di velocità su aree vaste e adottando una metodologia a velocità istantanee dopo il progetto Jomola abbiamo sviluppato un tool automatico che è stato realizzato in Python ed è ottimizzato per ArcGIS che sostanzialmente fatta eccezione per il lavoro di acquisizione dell'informazione dei dati di velocità e di preparazione delle tabelle automatizza la costruzione del modello di velocità istantanea ottimizza il modello di velocità aggiungendo dei vincoli aggiuntivi anche se non abbiamo a disposizione i dati di velocità misurati e converte il modello in profondità questo tool è diciamo open lo potete scaricare da GitHub e vi segnalo che non è ottimizzato per area topografia articolata una volta che il modello è convertito in profondità abbiamo la possibilità di confrontarlo con dati indipendenti di verificarlo e validarlo attraverso l'utilizzo di altri dati primi tra tutti nella nostra esperienza dati gravimetrici ovviamente questi devono essere resi disponibili in questo caso da Eni come vedete i dati gravimetrici sono nella seconda maggioranza dei casi molto abbondanti sebbene non omogeneamente distribuiti forniscono delle indicazioni interessanti sia per il contesto regionale che per il confronto di dettaglio con il nostro modello geologico qui vedete alcune elaborazioni realizzate da Fernando Ferri di Ispra nell'ambito dei progetti Retrace e Geomol abbiamo mappe delle anomalie di Bouguet o mappe passa alto delle anomalie di Bouguet che mettono in evidenza ovviamente elementi differenti della struttura geologica di una determinata area nell'esperienza di Geomol abbiamo verificato che avere a disposizione mappe di questo tipo consente di raffinare l'interpretazione geologica soprattutto in settori in cui per motivi diversi non abbiamo sufficienti indicazioni dai dati geologici diretti il modello va poi raffinato attraverso diciamo un raffinamento che è geometrico andando a verificare dove ci sono nelle nostre superfici modellate che non sono ancora appunto raffinate delle anomalie geometriche qui vediamo un esempio di una faglia con un relativo orizzonte questo è un thrust con un orizzonte all'hanging wall ci sono delle ripetizioni di anomalie geometriche sui due elementi modellati la scelta è quella di introdurre alcuni elementi strutturali in questo caso faglie presunte che vanno tenute separate nel modello come elementi introdotti successivamente all'interpretazione ma che ci consentono di descrivere meglio l'andamento geologico così come è estremamente importante effettuare una validazione geometrica dei risultati ottenuti dopo la conversione in profondità nel caso specifico qui vedete un confronto tra una superficie modellata ottenuta come risultato della conversione in profondità e un confronto con i marker di pozzi non utilizzati come dati di input nel modello di velocità stesso come diceva bene Andrea all'inizio di questa giornata le attività di modellazione sono delle attività time consuming per ottenere un modello che integra tutti i dati che abbiamo descritto nel corso di queste tre presentazioni abbiamo bisogno di tempo risorse umane e risorse finanziarie per quanto automatizziamo i processi questi richiedono richiedono tempo e quindi è una cosa che dobbiamo mantenere molto chiara nella nostra mente quando ci approcciamo alla modellazione un'ultima slide riguarda la comunicazione dell'incertezza la costruzione di questi modelli soprattutto quando restituiamo immagini come questa ci dà sempre l'idea di aver ottenuto qualcosa che è esattamente corrispondente alla realtà e invece è estremamente importante comunicare a chi utilizzerà quel modello il grado di incertezza ad esso associato nell'esperienza di Geomol abbiamo risolto questo problema la valutazione dell'incertezza non è mai una cosa semplice attraverso l'introduzione di mappe di densità che sono associate a ciascuno degli orizzonti modellati quindi delle mappe che mostrano quali sono le zone che hanno meno dati e quindi per le quali le superfici ottenute possono essere considerate più incerte e così come sono state introdotti diciamo delle poligoni in questo caso che identificano le aree dove non è stato possibile modellare la superficie perché i dati sì c'erano ma non erano sufficienti per poter ottenere un risultato sufficientemente valido per essere restituito agli utenti vi ringrazio allora direi che partiamo dalle domande che sono state postate nella nella chat chiederei magari ad Andrea e Alberto di riattivare le loro videocamere così diciamo cominciamo a scorrere a scorrere le domande e poi se ce ne fossero delle altre magari chiedo alle persone di palesarsi col video in modo che vi possa chiamare intervenire allora Andrea la prima domanda riguardava la no scusate perché forse ce l'ho ancora prima sì la gestione dell'incertezza nel modello quindi diciamo l'ultimo degli argomenti che stavo trattando io dice da Gianluca Norini come gestisci l'incertezza nel modello soprattutto nelle porzioni di modello più lontane dai dati di ingresso quindi zone distanti dalla topografia o eventuali dati di sottosuolo bene grazie Gianluca perché in realtà mi permetti di tirare fuori l'ultima slide che avevo saltato ecco rispetto a quello che si diceva noi ultimamente stiamo vedendo due diversi livelli di di incertezza uno è quello che vediamo prima cosa fondamentale come diceva Chiara ricordare che sono modelli 3D tenere separato il dato dal modello perché il dato il modello presenta chiaramente delle incertezze che derivano dall'interpretazione dal software dall'interpolazione eccetera ma ancora prima vediamo che possono esistere proprio degli scenari alternativi per esempio in questo caso banale che viene da un lavoro di di Wellman nel 2016 vediamo come è possibile tra due sandaggi non accorgersi della presenza di una faglia allora in questa zona noi dobbiamo prevedere la possibilità di avere o meno una faglia una piega qualcosa che produce scenari completamente alternativi e questa è una cosa che viene fatta fino a un certo punto negli approcci proposti in letteratura alla gestione dell'incertezza quello che invece vediamo a destra è più comune queste due figure vengono da un nostro articolo del 2007 e questo viene da un lavoro che riguarda Geomodeler che tra l'altro si ricollega a un'altra domanda successiva quando abbiamo un modello di riferimento quando abbiamo uno schema topologico da applicare con certe strutture e certe relazioni tra strutture diverse poi possiamo andare a perturbare le strutture la loro geometria e valutare l'incertezza che ne consegue a distanza questo si può fare con strutture planari in modo molto semplice in questo caso questa incertezza si può valutare in qualche modo anche sul terreno quando le esposizioni sono buone oppure si può fare proprio andando a perturbare tipo con il metodo di Monte Carlo la geometria in questo caso di apiro di salto però la mia idea è che forse bisognerebbe dedicare più tempo a valutare l'incertezza proprio a livello di scenario questa faglia c'è o non c'è esiste o non esiste perché è qualcosa che viene ancora prima di tutti questi approcci che sono definiti usati in letteratura Scusa Andrea credo che in parte si risponda anche alla domanda fatta da Eugenio Trumpi è chiaro che appunto la valutazione dell'incertezza e anche la comunicazione dell'incertezza per chi frequenta il mondo della modellazione è uno degli argomenti di maggiore discussione e forse che ancora non ha trovato una definitiva soluzione proprio perché i modelli includono diciamo moltissimi elementi e quindi non è sempre facile definire in modo univoco qual è l'incertezza associata al modello e anche come comunicarla cioè già abbiamo complicato facciamo fatica a comunicare il modello spesso l'aggiunta dell'incertezza è ancora più complicata però di esperienze cominciano a essercene molte di letteratura ce n'è tanta quindi insomma ecco l'invito è anche a approfondire questa questione tra l'altro riflettevo proprio ieri sera anche in un contesto più ampio cioè siamo di fronte a questa situazione in cui poi quando si comunica per un pubblico più ampio si comunicano dei contenuti tecnici o scientifici diventa estremamente critico gestire l'incertezza spiegare l'uomo della strada tra virgolette che esiste questa incertezza credo che questa cosa vada questa cosa mi sembra terribilmente sotto gli occhi di tutti esatto sicuramente in questi mesi stiamo vivendo questa esperienza in modo molto chiaro e credo che questo tipo di attenzione vada riservata in particolar modo a quei modelli geologici 3D che poi hanno delle applicazioni si diceva all'inizio applicazioni in particolar modo alle infrastrutture vedremo alle aree urbane diciamo l'incertezza lì ha un valore veramente importante quindi una soluzione sarebbe diciamo utile e interessante trovarla e comunque è un problema sicuramente sul campo posso dire una cosa velocissima tanto grazie Andrea per la risposta e la mia domanda era anche perché appunto pensando ad esempio al CARG che alla fine è un documento ufficiale dello Stato se ho capito correttamente quindi chiaramente il modello 3D viene pubblicato e quindi magari tanti fogli CARG hanno approcci di modellazione diversa perché sono fatte da persone diverse con sensibilità differenti quindi potrebbe poi essere difficile avere un metro comune per valutare l'incertezza e anche comunicarla agli utenti che potrebbero capirci poco o niente di geologia e quindi non avere gli strumenti per poi fare una propria valutazione assolutamente sì diciamo che nell'esperienza che abbiamo è chiaro che la descrizione del come si è arrivati alla costruzione del modello è assolutamente indispensabile cioè il modello va associato con la descrizione del metodo che è stato utilizzato per la sua costruzione è chiaro che quel tipo di informazione non è un'informazione immediatamente fruibile o comprensibile a un pubblico vasto l'altra cosa è comunque fornire insieme al modello sempre un disclaimer passatemi il termine che consenta di dire chiaramente che quel modello può essere utilizzato è stato prodotto per quella finalità può essere utilizzato per quella finalità e qualunque uso diverso ovviamente non può essere considerato come diciamo certo perché inevitabilmente appunto l'idea è che poi il modello un po' come le carte geologiche vedevo che c'è un commento di Paolo Severi in merito diciamo l'incertezza c'è anche nelle carte geologiche e non viene comunicata questo effettivamente è un problema e allora diciamo pensare che un modello sia buono per tutte le stagioni non è così perché se è stato prodotto per una finalità specifica non è detto che sia utilizzabile per un'altra finalità perché magari abbiamo codificato le informazioni secondo uno schema logico che non era quello utile all'applicazione diversa che qualcuno ci può fare quindi è estremamente rilevante il tema della comunicazione dell'incertezza ma anche dell'utilizzo che si può fare del modello procederei con le domande poi magari questi sono argomenti che potremmo riprendere alla fine della giornata c'era una domanda sempre per Andrea a proposito dei software open source di modellazione quali sono? ma in realtà allora software open source cioè pacchetti pronti all'uso non ce n'è ancora che io sappia ci sono e stanno nascendo molto rapidamente una serie di librerie open source che implementano gli algoritmi che vengono usati che spesso implementano anche algoritmi nuovi moderni che dovrebbero essere testati e che potrebbero migliorare le cose in realtà a Bicocca stiamo sviluppando tramite vari progetti con un dottorato eccetera una nuova piattaforma che vorrebbe offrire proprio questa colmare questo gap quindi costruire una interfaccia grafica comoda da utilizzare che possa poi essere connessa a diverse librerie nuove di interpolazione eccetera eccetera siamo abbastanza avanti sull'interfaccia grafica e stiamo iniziando ad affrontare gli aspetti di collegamento con le librerie di interpolazione arriveranno notizie in futuro quando sarà un po' più maturo quando sarà pronto sempre una domanda per Andrea così va in ordine quale classificazione viene utilizzata per le litologie eh dipende infatti leggevo quella domanda dipende molto dagli obiettivi forse si riferiva a quella slide in cui parlavo del di quei complessi litologici che stiamo usando per esempio in questo progetto di che ha finalità di idrogeologia a scala grandissima scala di idrogeologia di mezza catena alpina tra Italia e Svizzera eh abbiamo individuato come particolarmente importante distinguere tutti i litotipi carbonatici da le unità di basamento più resistenti e più con un comportamento più fragile grais ortognais graniti eccetera eh rispetto a invece unità eh tipo scisti eh bicacisti filloniti eccetera che hanno un comportamento meccanico completamente diverso eh che poi si può tradurre in un comportamento di fratturazione idrogeologico eccetera differente eh però eh ripeto torno tutto si si ricollega al fatto di valutare all'inizio quali sono le finalità del modello 3D perché se invece l'obiettivo fosse che ne so beh sono inutili fare esempi ma è abbastanza evidente sì diciamo la classificazione è molto funzione di che cosa ci si vuole fare però credo che questa cosa infatti diciamo la domanda era aperta anche credo a questo punto per Alberto diciamo in quel tipo di contesto con quel tipo di dati eh chiaramente che sono molto strutturati all'origine invece capire come classificarli per poterli poi diciamo applicare in diciamo per diverse applicazioni sia invece tendenzialmente un po' più facile più difficile la fase iniziale di organizzazione delle informazioni però poi diciamo le possibilità di accorpamento o disaccorpamento sono molteplici quindi ci sono diverse domande su questo su questo argomento non so se Alberto vuole aggiungere qualcosa perché la domanda di Gianluca era relativa alla conversione delle litologie in numeri per alimentare l'interpolazione comunque qualche elemento in più anche quella di Andrea sulle sulle simulazioni geostatistiche diciamo io indirettamente ho fatto vedere quello che l'IPROGEO permette di fare come modellazione partendo da un modello geologico come unità stratigrafica cronostratigrafica che quindi bisogna creare prima un modello diciamo dentro propriamente un modello di sovrapposizione di unità e l'altro caso invece per cui ho fatto la dimostrazione di una interpolazione di litologie in quel caso le interpolazioni devono essere per forza numeriche e noi abbiamo praticamente tradotto tutte le litologie e anche le miscele di litologie in un classico numero applicato alla granulometria nel senso che una ghiaia nella sua deposizione prima o poi passerà poi a delle sabbie grossolane eccetera eccetera questo ci ha permesso di fare delle rappresentazioni delle modellizzazioni delle interpolazioni senza dover tener conto della sovrapposizione litostratigrafica di una ghiaia rispetto a un'altra e abbiamo compenetrato praticamente i due modelli in modo tale da non mescolare ghiaia all'interno di un'unità con altre ghiaie che sono magari abbastanza vicine ma sono un'unità cronologica differente è chiaro che sono anche questa qui sono delle semplificazioni questo di trattare la litologia come un numero piuttosto che come un oggetto diciamo che rappresenta un corpo fisico che ha un motivo per cui ci sono delle ghiaie piuttosto che delle sabbie però affinando il modello geologico invece di partenza quindi riuscendo magari a distinguere all'interno di una unità come la S8 delle facces quindi con una distribuzione di facces non legata alla litologia ma allo studio proprio fisico delle unità riconosciute magari durante i sondaggi eccetera eccetera e poi all'interno di queste unità magari definite quindi molto meglio ripetere quella interpolazione usando l'aspetto invece granimometrico quello che ho mostrato io è abbastanza semplice da fare si può comunque affinare sicuramente grazie Alberto allora io direi diciamo c'è un ulteriore commento sulla questione dell'incertezza anche in relazione alle carte geologiche riprenderei chiederei alla persona che l'ha fatta di diciamo palesarsi con un nome più esteso così capiamo di chi si tratta ma la riprenderei direi nella discussione finale perché immagino che questo sia un argomento che arriverà fuori anche nel corso delle prossime delle prossime presentazioni che sono quelle relative alle applicazioni quindi lo teniamo a mente e lo riprendiamo in chiusura di giornata e allora siamo in ritardo questo è evidente e ci prendiamo però a differenza dei 15 minuti ci dobbiamo prendere di pausa ci prendiamo soltanto 10 minuti diciamo alle 11.10 cerchiamo di ritrovarci qui e riprendere con la presentazione di Chiara Zuffetti dell'Università Milano Statale grazie di chiara non vi sento più Grazie a tutti 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 Grazie a tutti